Il territorio brinisino si prepara alla stagione estiva, una presenza importante come confermato dagli ultimi anni di turisti alza anche il livello di sicurezza, ma torna la carenza degli organici per le forze dell'ordine e a lanciare l'ennesimo appello e allarme il segretario provinciale di Brinisi del SIAP del sindacato di polizia Cosimo Sorino. La situazione è sempre più critica per vari motivi, innanzitutto ormai è acclarato che in questi anni noi paghiamo un mancato turnover che ha fatto in modo che i colleghi che sono andati in pensione non sono stati sostituiti. Paradossalmente la pandemia per due anni ha coperto queste lacune, perché stando chiusi in casa abbiamo subito questa situazione. Solo che a fronte dei turisti, a fronte del movimento delle persone, nel periodo estivo noi lamenteremo una situazione molto negativa. Negativa perché dai dati che mi sono giunti e dalle circolari del Dipartimento la provincia di Brinisi non avrà nessun rinforzo estivo. E in più voglio sottolineare che in tutto il 2023 andranno in pensione per tutte le qualifiche 40 unità e noi avremo solo e esclusivamente massimo 20. Quindi abbiamo un target di meno 20 unità solo per la Polizia di Stato, solo per il 2023. Grazie a tutti.